Ora sei mutato davvero, però. Ora, ecco, così perlomeno se mi muto non interrompo, così non mi stressano il cazzo. Allora, è perché adesso, no? Veramente, se adesso è a tribuna politica, io parlerò un po' quando cazzo, mi pare. Io sono abituato a discutere qui, come fosse in casa mia, se uno parla io lo interrompo, poi riparla lui, io sono abituato, sì, invece vi bisogna fare tipo tribuna politica, lo fare. No, 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 mai detta questa roba. L'ho visto. Ciao ragazzi. Ciao ciao. Che è successo? Aspettate. Sbagliato scena, mi sa. Sì, vedete. Ciao ragazzi, ciao 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 a tutti. Come va? Bah, si va avanti, dai. Si va avanti. Qualcuno mi ha aggiunto. Una sferzata di energia. Invece non si può andare. E c'è un altro che mi ha fatto un altro aggiunto a questa frase, glielo ho detto. Sì, è sorciglio di un burrone. Ma risposta è ma, ma ha spiazzato sta risposta. Si va avanti, si è sorciglio di un burrone. Perché è proprio il pessimismo puro. Allora oggi ve lo fa un po' di... Ora non c'è Victor perché è in Puglia. Ha una sagra, a quanto ho capito. Anche se non è vero, facciamo che è vero. E niente, volevo parlare del primo Jurassic Park. Completamente a caso. Mi è venuto in mente perché so che a fede piace o non piace. Cioè piacciono certe cose e non piacciono altre. Non so invece cosa ne pensa Davide. Ora che ci penso non credo di non averne mai parlato, di non averne mai sentito parlare. E anche io, diciamo, sono un po' nel mezzo. E col tempo, diventando grande, mi sono un po' schierato dalla parte dei detrattori del primo capitolo. Un capitolo diretto da Steven Spielberg che stimo molto come regista. Che ha fatto tanti bellissimi film e tanti capolavori. Ma anche tanti film abbastanza discutibili e dimenticabili. E con questo Jurassic Park ha oggettivamente di nuovo rivoluzionato l'industria cinematografica mondiale. Soprattutto per quanto concerne gli effetti speciali. Perché i dinosauri, che erano un mix di animatroni o animatronics, chiamateli come vi pare, ad altissima tecnologia e una stupenda CGI dell'industria light and magic, ha settato dei nuovi standard per gli effetti speciali nelle grandi produzioni. Anche nelle piccole produzioni che cercavano di inseguire quella qualità visiva di quella pellicola. Senza però raggiungere lo stesso risultato di Spielberg and Company. Secondo me questo film ha influenzato anche l'animazione. Per quello ne parlo. Perché se prima i mostri, i dinosauri, si facevano con la plastilina. Quindi con strutture di metallo ricoperte di plastilina. E a volte anche pellicce di animali. Per esempio King Kong aveva la pelliccia di conigli addosso. Spielberg e molti altri effettisti prima di lui, però Spielberg diciamo che gli ha dato la mazzata finale, ha fatto capire che quello era lo standard. Cioè la tecnologia, il dinosauro, il mostro doveva essere in CGI e l'interazione tra umani e CGI doveva essere perfetta. Quasi invisibile, quasi impercettibile. E così fu. Infatti mi ricordo quando vidi più avanti Jurassic Park al cinema. Mi ricordo che la gente impazziva per il Dorby Surround. E quando apparivano questi dinosauri la gente quasi non stava più nella sedia. Cioè sembrava di essere veramente a Luna Park. E secondo me è stato quello il problema di Jurassic Park. Poi lascio la parola anche ai miei ospiti per sentire cosa ne pensano. Che da piccoli ovviamente si spalanca la bocca. Per questo film e per questi effetti visivi. E anche per le sferzate horror che ci sono. Che ho apprezzato decisamente da Spielberg. Con arti mozzati, sangue, tensione. Mi sa che sei mutato Fede? Appositamente perché ho chiesto le sigarette. Ah ok, ok. Pensavo... Io l'ho finita, che dramma. Un dramma, me ne sono accorto poco fa. Però ho fatto il pre-order di Monster. Grazie, grazie mille. Che bastardo. Comunque, detto questo, stavo dicendo... Ecco sì, delle sferzate horror, anche splatter, che ho apprezzato tantissimo. Soprattutto la scena iniziale che già setta il tenore un po' creepy del film. O la scena del cesso, dell'avvocato successo. Che a me, insomma, ha traumatizzato da bimbo. Chi non... Nessun bimbo, penso sia rimasto illeso dopo la visione di quella scena. Ecco, però, poi crescendo, riguardandolo, capisci che c'è qualcosa che non va. E che gli effetti speciali, in realtà, sono quasi una scusa per una riduzione di un libro meraviglioso di Crichton. Dove c'è poca trama, o comunque ci sono tanti buchi di trama, tante cose che non tornano, tante cose abbastanza difficili da credere. E una storia, ben o male, senza tante svolte, colpi di scena, poi, così impressionanti. C'è tanta epicità, c'è tanta buona regia, ci mancherebbe. Però, ecco, riguardandolo oggi, è fallace da quel punto di vista. Uscisse oggi, probabilmente, Jurassic Park sarebbe stato molto, molto più criticato. Ecco, però, ecco, questo è quello che ne penso io. Secondo me, anche capitoli tipo Jurassic World, eccetera, sono stati criticatissimi, dimenticandosi, secondo me, del primo Jurassic Park, che certo non è a livello di Jurassic World, per carità, perché c'è la mano di Spielberg, ma aveva tanti, tanti problemi. Quello che ho di più, ovviamente, è il T-Rex, che nella gabbia ha un fossato gigantesco, dove poi i nostri eroi finiranno e cadranno con la macchina, insomma. Oppure il bimbo che prende, mi pare, 10.000 volts, attaccatosi sul cavo e non more. Cioè, non more stecchito e tantissimi altri, tipo il T-Rex, che sì, tanti dicono, no, ma è passato da quel buco, ma il T-Rex che si abbassa la testina per entrare nella scena finale e catturare i veloci raptor mi ha sempre fatto molto ridere. Insomma, ce ne sono tanti di cazzari di questo tipo, però ecco, volevo sentire la vostra su questo film. Di che anno sei, precisamente? Del 90, preciso. Del 90, ok, perché Jurassic Park è del 93. Sì. Se non erro, in Italia è stato anche fino al 94. Sì, io mi pare, lo vedi proprio dopo. Io sono del 91, quindi non lo vedi al cinema. E quindi, ovviamente, per quanto mi riguarda, quell'effetto, diciamo, stupore, visto in tv, non fu lo stesso rispetto a molti altri. Mi leggo velocissimamente all'affermazione che hai fatto in relazione ai sequel, cioè sono stati eccessivamente criticati perché magari qualcuno si dimenticava delle problematiche anche del film di Spielberg. Secondo me ci sono enormi distinzioni. In primis, vabbè, la regia di Spielberg, la colonna sonora di Williams, che fa tutta la differenza del mondo. Ma soprattutto, per me, parlare di Jurassic Park ha senso ed è stimolante solo in termini storici per quanto riguarda il cinema. Esattamente come parlerei di Cabiria di Pastrone. Mi auguro che qualcuno in chat l'abbia visto, altrimenti recuperate, credo sia presente anche su YouTube. Cioè, è un film che dobbiamo valutare dal punto di vista storico. Poi, lo dicevi anche tu, ha avuto un impatto enorme. E trovo quasi più interessante leggere tutto ciò che c'è stato dietro durante la costruzione del film, rispetto al film in generale, che si effettivamente prende da Crichton qualcosa. Quello invece, il testo di Crichton lo lessi da piccolo. In realtà è quasi un McGuffin per sperimentare, da un punto di vista, diciamo, degli animatroni, eccetera. Tra l'altro storie assurde, problematiche con le intemperie. Quindi quello è un aspetto molto interessante. E secondo me Jurassic Park, come anche altri film, magari di Cameron, che però secondo me sono migliori anche da un punto di vista del film visto oggi, è un film che va valutato come un passo importante nella storia del cinema moderno. Perché, come hai detto tu, parlare del film in sé, insomma, è chiaro che sia pieno di forzature, ma non era secondo me neanche l'intento di Spielberg. Cioè lì c'è stato proprio un intento da amante del cinema, amante della sperimentazione, ed effettivamente quel risultato è stato assolutamente raggiunto. Perché nessuno, esattamente come quando abbiamo parlato dello squalo, nessuno era riuscito a fare cose di quel tipo con i mostri. Sia per quanto riguarda lo squalo, che è invece un film che tutt'oggi rimane perfetto, secondo me, e anche con Jurassic Park è andato assolutamente in buco. Io l'ho visto uno Spielberg un po' più bimbo, no? Che gli danno il giocattolone, vuole tornare bimbo con i dinosauri, gli fa scontrare come noi li facevamo scontrare con pupazzetti di plastica da piccoli. Sì, sì, sì. L'ho visto un po' quello. Si chiama Capiria di Pastrone, ragazzi. Se non sbaglio ho scritto pure dato annunzio, in alcune parti i testi. E più che altro, vabbè, non volevo paragonare la Jurassic World in quei termini, ma tante persone che hanno spregiato Jurassic World, poi quando invece tocchi Jurassic Park e gli dici guarda c'è questo difetto, c'è questo buco. No, no, no. Allora, quello è un discorso che io faccio spesso legato al ricordo, alla nostalgia. Poi lascio la parola a Federico. Vai, vai, vai. Cioè, molte persone ricordano determinate canzoni, determinati film. Paradossalmente accade anche a noi, no? Cioè, nel senso, quando Federico recensiva i film, quelli caoni, quando Dario faceva i video su YouTube. Il Prime. Perché tu in realtà sei legato, più che al prodotto, al ricordo. E se in quel preciso momento della tua vita ti è arrivato quello stimolo ed è entrato a far parte della tua quotidianità, significa che evidentemente erano le tue corde. Quindi tu apprezzi, anche per un pezzo musicale, vale, magari quella canzone che hai sentito nell'estate in cui hai rimorchiato, ti sei innamorato. Ed è una cosa decisamente più ampia, tant'è che in un altro bel film se si pronuncia la frase non farti fottere dalla nostalgia, no? è un po' questo. Oppure eri più giovane, più spensierato, è più bimbo. Avevi la soglia di tolleranza più alta. Invece Fede mi sa che era un po' più grandicello, gliene frega un cazzo. Ora si è mutato davvero, però. Ora, ecco, così perlomeno se mi muto non mi interrompo, così non mi stressano il cazzo. Allora, è perché adesso, no, veramente se mi adesso è a tribuna politica, io parlerò un po' quando cazzo mi pare. Io sono abituato a discutere qui, che è come fosse in casa mia, se uno parla e lo interrompo, poi riparla lui, io sono abituato, sì, invece vi bisogna fare. Potremmo una politica lo fare. No, 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 mai detta questa roba. L'ho visto a 21 anni. Chiaramente io invece, a livello divisivo, feci sti cazzi, perché comunque venivo dall'esperienza di un paio d'annetti prima, in realtà, di Terminator 2, l'avevo già detto sti cazzi, in un certo senso. Però qui feci poi. Però mi ricordo che proprio mentre lo guardavo, io avevo già letto il libro di Clicton, e mi dissi, l'ha scritta lui la sceneggiatura, ma se l'è dimenticato il libro, perché nel libro il vecchio è cattivo, qui è buono, vuole far morire nipote apposta, è una merda, c'è 5.000 gente che lavora a questo parco, lì pare ci sia solo il povero Samuel Jackson, che da solo deve controllare l'universo parallelo. C'è il ciccio che nel libro fa un casino per vendere questa cosa, lì va da uno, vieni bello, li fa anche urlare il nome a alta voce. Cosa urli il nome a alta voce? Stai buono. Gli dà l'affare, ride, ah 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 che bello lo metto lì dentro, c'è, non ha mai visto una cazzo di affare criogenica che ci può buttare un affare dentro, tecchia, lavora a giurarsi in parco, e non torna alla base, non mi paga abbastanza, ed è fatti alzare lo stipendio. Cioè non ho capito. Cioè non è proprio, è una cosa proprio triste. Lui che ha la password di tutto. Di tutto, di tutto l'universo, carità, mille otto al mese, cioè non ho capito quanti cazzo di soldi vuoi, perché non spiega poi quanto lo paga. Cioè perché se lo paga a milione l'anno mi pare buono, cioè all'epoca poi comunque, vabbè, non si vende per due spicci, però io questo, io quando ho guardato il film, in effetti, ero colpito dagli effetti, da quello che voleva farci vedere Spielberg, però, cioè essendo abbastanza grande, mi colpì molto l'immagine, diciamo, iniziale, quando si vede appunto i dinosauri per la prima volta, Pier Bivori giganti, che fai parca puttana, perché lì usare la miniatrone insieme alla CGI, dopo aver cacciato più o meno il povero Tippett, che se l'era fatti tutti e che praticamente con la sua invenzione quell'anni 80, che aveva già utilizzato nel primo Guardie Stellari, che sono gli scacchi, come si vede in Guardie Stellari, Tippett, in realtà poi Spielberg gli garbavano tanto, poi arrivavano nell'industria Light and Magic, arrivò Luca, se gli piace, guarda, c'è questa, e quindi sostituirono il suo lavoro con quello con la computer grafica, nonostante lo tenero come supervisore agli effetti, perché Tippett, insomma, poi non ha rinegato, anche lui ha cominciato a votare la CGI, però vi consiglio un'altra volta Mad God, lo trovate in Blu-ray estero, tanto è muto, è un capolavoro dell'animazione, quello sì, e qui si parla per me, io quando lo vedi, ripeto, rimasi colpito da questi effetti che non sembravano quasi, c'era stato qualche altro film che aveva provato a usare gli effetti in computer grafica tranne camera, però erano molto staccati visivamente, cioè non riuscivano ad entrare perfettamente nel quadro, perché si vedeva che erano completamente quasi animati, quindi un'animazione che entra dentro un film, invece qui c'è il problema è che quando proprio si avvicinano, li toccano le cose, c'è gli animatroni fatti di lusso, quindi sono veri, e quando li vedi alla lontana c'è questa cosa a metà, e quindi, ripeto, il problema è proprio narrativo, cioè nel senso che quando te mi fai arrivare Jeff Goldblum che è vestito come Jim Morrison, che spara frasine del cazzo che lui sembra aver letto nei biscottini cinesi, cioè apre e dice la frasata, ma come ci fai, adesso questo vuole spiegare in tre parole la teoria del caos e non si apisce perché, anche questo non è che nel libro, non si apisce perché uno che apre un parco il coccodinosauri pensa mai che uno scienziato e uno studioso sul caos pensi che vada bene, com'è possibile? Cioè se studi il caos sai che riporti il caos primordiale non potrà mai andare bene, ma il problema del film è che glielo dici sull'Eliottero, cioè non sono nemmeno arrivati sull'isola e gli dici già guarda che qui va tutta a puttane, ma come? Cioè il problema del film è che non riesce secondo me se non sei bambino o ragazzino o fan, non lo so, a creare attenzione vera perché tanto sai che quei bambini hai già capito io in realtà quello avvoato di merda avevo già capito che moriva, hai già capito quali sono i personaggi che schiantano e quali arriveranno in fondo, non c'è la percezione del pericolo, non c'è mai, non c'è mai quella tensione lì, tanto sai che quando le rincorre il tirannosaure sono i quattro protagonisti sopravvivono, sai che quando scappano i bambini sopravvivono, sai che quando scappa il cattivo muore, è così, è Spielberg, ho capito è Spielberg, nel libro mica li ammazza, però insomma c'è una cattiveria diversa, proprio anche i bambini sono un po' stilizzati meno idioti, cioè questi rimbarzano negli spicoli, c'è scritto un toccacqui diecimila volte e quello ci si sdraia sopra, lo spara a 140 metri e lo riavvivano, vai, vai, boom, e si rialza, cioè questo ha preso diecimila volte, doveva essere esploso come, ha esploso proprio, pum, cioè dalla botta ha preso nemmeno un cazzo di fulmine e l'avesse passato a metà, sono cose che purtroppo a vent'anni ci fai caso, a vent'un'anni, cioè sei lì che fai, ma non è possibile, perché poi ti gira le palle perché la regia, proprio a livello di montaggio, la fotografia, la musica, fai porca puttana a un altro livello, cioè quindi secondo me si è capito che Spielberg ci ha speso tanti livei sordi, non è un caso che poi la post-produzione, comunque visto che Spielberg ci da scinder list, l'ha fatta Lucas, cioè quindi il montaggio, la post-produzione sugli effetti l'ha fatti tutti Lucas, che è comunque più, ancora se vogliamo, più giocoso di Spielberg, ma io lo Spielberg che preferisco non vive qui, io preferisco Fablesman, preferisco altro di Spielberg, Munich, se devo andare sulla favola incontrerà avvicinati mille volte, non E.T., questo è un film all'E.T., sono quei film che lui fa, sa benissimo come scriverli, perché li deve scrivere per tutta la famiglia, becca tutto il pubblico, sa benissimo come scrivere dei personaggi e adattarli al gusto completo di tutti, quindi un grande Sam Neill, perché niente da dire, è un grande attore, Laura Derno, non è che ha preso degli imbecilli, no, poi non restano male, lo stupore nel viso, e ora è valutato come uno dei migliori film e la storia del Cina e la mettono nel National Congress e se volete quello che vi pare, si ribatte però il fatto che se fosse stato un flop come il Godzilla di Emerick al di là delle qualità, nessuno se ne ricorderebbe più perché sarebbe il flop, cioè quindi in realtà tutto quel metterci le battutine, le rincorse, sapere già come va a finire è per cercare di spaventare fino a un certo punto il bambino appunto che ha dieci anni, sette, dodici, che vede appunto mangiare quello e fa cazzo però c'è due o tre cose horror, però il film, il problema è che quelle due o tre cose horror funzionano per i ragazzini ma non funzionano per gli adulti perché non lo sono abbastanza, cioè non c'è mai il terrore di questi dinosauri e poi non si capisce da dove vanno, come escono, come arrivano, cioè sono veramente troppo intelligenti, troppo, e poi anche la spiegazione lì con il cartone animato il ranocchio, cioè è troppo, è tutto cartunesco volutamente secondo me da Spielberg per dare molta leggerezza ai personaggi perché in realtà la storia sarebbe cupissima e quindi perché muore la gente, allora da questa leggerezza, questo tono, avventuroso modello Indiana Jones che lui ha sempre avuto, solo che qui secondo me Scozza proprio va a battere col fatto che siccome questo non è un vero film di mostri nel vero senso che lui voleva, appunto ha chiamato paleontologi da tutto il mondo il più grande esperto per averli come dovevano essere perché lui non voleva fare un film di mostri o la fan film di dinosauri e sono a Cordon Davide evidentemente quello è il suo piano ma se per fare quello spendo 100 milioni quasi all'epoca che come ne spendono i 600 ora bisogna che il film è incassi perché anche se è Spielberg ricordiamoci che era lo Spielberg di 30 anni fa quindi uno Spielberg che aveva esordito alla grande al massimo da 15 anni quindi fai presto Hollywood a cancellarti e buttarti da una seggia diciamo una cosa Fede che comunque tutte le sperimentazioni di questo tipo fatte prima del tempo quindi anticipando i tempi costano molto esattamente come i film di Cameron cioè anche Cameron per questo Avatar cioè ma io infatti ha dovuto spendere tantissimo anche in pubblicità cioè sono sostenibili solo con incassi giganteschi e marketing anche poi successivo con Gadget e cose del genere ha detto che Spielberg e Cameron secondo me potrebbero Cameron poi infatti a Cameron gli interessa anche meno perché quando è uscito Avatar 2 Avatar 1 disse beh basta ci ripiglio costi e me ne prego tanto li voglio fare cioè Cameron è uno pieno di soldi li ha fatti talmente i miliardi di dollari che può fare quello che vuole ma secondo me però anche film di Cameron come può essere un Terminator 2 che va comunque tutto chiaramente portato alla sua epoca quindi è storicizzato è chiaro che si parla dei film degli anni 90 per un film anni 90 Jurassic Park non può essere altro che messo nella storia del cinema per gli incassi non mi interessa e per l'avanzamento tecnico che non può essere negato quello che dico è che purtroppo ora e qui do ragione a Davide e a Dario su un altro discorso cioè ora criticano la semplicità però senza bue di Avatar perché Buki non ce n'ha e poi salvano Jurassic Park che è tutto un ciottolo cioè al confronto Avatar perché la storia di Jurassic Park è semplicissima come quella di Avatar però nessuno li va contro perché secondo me c'è una differenza grossa quel film non hai caduto di tono in Avatar in Avatar non hai scivoloni scivoloni così grossi che uno che fino a quel momento ha preso pistolettate da un momento all'altro muore perché scivola e picchia la testa lì è un po' così cioè non si riesce a capire perché un avuato intelligente una persona seria va nel cesso mezzo a nulla caga dove sei piscia dove sei stai scappata da dinosauri cioè cosa cerchi il cesso cagati addosso cioè è una questione proprio di in Avatar non lo so se non succederà mai e quindi è per quello che il film per me che lo vedo lo storicizzo quando lo vedi al cinema dici le ho fatto un bello spettacolo cioè andai tre volte prevedesti tinosauri perché al grande schermo ragazzi facevano il fettone però la prima volta quasi non fai caso a tutte le stronzate ci passi sopra perché ti reprende da speed comunque dal ritmo la seconda volta fai boia e ti do sul grande schermo la terza come amici non c'erano andate perché quel film lì è stato due anni al cinema prima di levaccio sarà stato il 95 quindi è vero che erano tutti al cinema continuavano perché era un altro periodo cioè un successo immane una cosa gigantesca e noi io la mia generazione ci si rese conto di essere di fronte a una specie di guerre stellari scritto un po' peggio nel senso un'altra cosa che si sposta in quel modo lì che noi abbiamo visto da piccoli e già ci eravamo resi conto che bambini come noi che avevano visto 6-7 anni guerre stellari e che hanno comunque un trasporto diverso da quelli che l'hanno vista a 30 su piccolo schermo o altro sarebbe stato questo un passo saprevo che ne sarebbe parlato per 30 anni ma non perché chissà chi sono ma perché è chiaro vedevo uscire bambini dai 5 ai 15 anni 13 anni che saltavano cioè lo vedevano 5 volte di fila perché all'epoca c'era il biglietto che lo potevi non uscire io le prime due volte l'ho viste di fila io la prima l'ho vista la seconda l'ho rivisto lì col solito biglietto e poi ci sono ritornato perché era il periodo bello che te non compravi lo spettacolo come viene venduto adesso te compravi l'entrata al cinema e ci potevi star se non uscivi qua anche tutto il giorno guardarti il film 12 volte quella è una cosa bellissima perché quando mi dicono come hai fatto avete due volte al cinema vero devo mi sforzato perché all'epoca ci stavi anche le radici pagavi l'entrata nella sala e poi sono cazzi tu ma quante volte lo vedi non era come adesso ma fino a che anni sta cosa perché la cosa che è rimasta fino a che non sono arrivati in multisala si parla si parla dei primi ai fini anni 90 infatti io non me la ricordo sta cosa un minimo 22-23 anni fa era proprio compravi il biglietto e stavi lì non è che ti veniva la butta fuori nel senso io ho già pagato non potevi uscire per rientrare con lo stesso biglietto per via della CIA chiaramente perché ti avevi pagato quello il biglietto non è più valido però se stavi dentro non è che dovevi nasconderti stavi lì non c'era i posti che ti davano loro numerati non è che dovevi scegliere dove andavano loro c'era il cazzo di pare ti mettevi dove ti pare che prima arriva prima all'oggi era fatto sì il cinema era per quello che entravi a Blotco mi ricordo ancora che io per entrare ero bello grosso facevo entrare prima tutti i bimbetti perché se no mi stragiavano perché mi ricordo a Jurassic Park a questi film quindi per me comunque ripeto lì è stato uno spettacolo con gli anni ripetendolo anche al cinema perché poi lo riportarono per il quindicesimo al ventesimo anche ripetendo in 3D mi pare ma io evito quando lo rivivi e poi rivisto un VHS in DVD in Blu Reign in tutti i modi continuo a pensare che sia molto peggio di come me lo ricordavo cioè guardandolo ora a livello di storico è un film eccezionale che va tenuto di conto per la regia che comunque è d'avanguardia anche a livello di montaggio di stacchi di raccordi non ne sbaglia uno in quel senso ma all'interno però l'immagine è sempre costruita benissimo ma all'interno però sembra che una scena su due ci sia il vuoto cioè guardi qualcosa che non ha senso e quindi in un certo senso per me questo è uno mi dispiace degli Spielberg che proprio me ne fotte il cazzo cioè ecco alla fin fine cioè Fablesman ne va alle 6.000 ma anche nel periodo ma non è un periodo se un nome gloriosissimo quello per Spielberg degli anni 90 io non sono un amante nemmeno totale di Schindler List io trovo che fosse un po' in un periodo come tutti i grandi registi negli anni 90 che arrivavano le nuove scuole Paul Thomas Anderson David Fincher arrivavano i nuovi fino anni 90 addirittura Nolan come Mentor following arrivavano questi nuovi e questa nuova Hollywood e questi hanno cercato di utilizzare molto lo spettacolo di essere molto gonfi e poi mi sembra Spielberg che sia tornato negli anni 2000 con The Post Nuni c'è altri film ma cercare di trovare quel bilanciamento che aveva secondo me fino negli anni 90 è uscito Amistad è un altro film abbastanza retorico di Spielberg che funziona a metà un'altra volta con quel finale con Hopping che non si chieda mai quindi per me questo è Jurassic Park cioè lo Spielberg è quello per i bambini quello che fa è ti quello che decide ora è in casso e poi faccio due film e mi cazzo mi pare per me è questo un'altra cosa che secondo me ha portato il successo di Jurassic Park secondo me anche nel tempo è l'iconicità di certe scelte di Spielberg nel realizzare il mondo di Jurassic Park cioè il logo iconico a palla come erano vestiti in Jurassic Park le jeep i font utilizzati la presentazione che diceva Fede con il Mr.DNA oppure la parola magica la scena della cuscina cioè tutte robe o la frase continua di Hammond qui non si bada da spese l'Ambra mamma mia che coglioni ci hanno fatto con l'Ambra la zanzara dentro l'Ambra con il bastone di Hammond cioè i versi dei dinosauri con i sciappale i velociraptor cioè tutto è super pop veramente tutto per cercare di ingolosire il gusto del pubblico e poi portarlo a ricordare come è cult cosa che poi effettivamente è successa quella secondo me è la cosa più importante quando tenti di costruire un mondo alla fine il cinema è immagine e se vuoi rendere iconico un film hai bisogno di due cose quindi